Nella piccola frazione di Molin del Piano, situata a 120 metri di altezza a sud di una collinetta, svetta la piccola chiesa di San Martino di Sieci. Edificata nel 1400 sulla strada che porta al castello di Torre a Decima, la chiesa è stata interamente ricostruita nel 1786. La piccola pieve presenta oggi una particolare pianta ottagonale, mentre un'elegante loggia retta da colonne neoclassiche precede il prospetto. Al suo interno è conservata una statua della Vergine Maria Immacolata, che ogni 8 dicembre viene recata in processione dalla popolazione. Nell'abside, infine, si trova un crocifisso del pittore locale Massimo Cantini.